scuola elementare dimmi che c'ha le borse sott'agli occhi mag da quando mezzo e bene silent hill che sono cori 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 che parto mi butto al di sotto se c'è jojo qua quello del manga jojo 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 anime jojo mi hai visto chi è chi è il jojo il jojo mojo jojo mojo jojo il mandrillo si il mandrillo di wellington mandrillo di wellington dove sei? mandrillo di wellington è venuto presto un nato da casa presto un nato il mandrillo il mandrillo di wellington mamma mia un altro shampoo di luce per il mandrillo di wellington e me ne vado di qua e me ne vado di la il mandrillo come fa? il mandrillo fa qua 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 non c'è posto va a fare il save fa questo cappello vada 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 dal mandrillo di wellington qui c'è the wasteland dentro la gabbia che si agita ragazzi aiuto ciao wasteland anche a te comunque tu sia nel multiverse che parlo oggi ho letto una notizia terribile cosa stanno pensando di fare il remake del signore degli anelli ma io mi sparo oddio il film no ma io mi sparo no a voi ah che cazzo pare che vogliono coinvolgere peter jackson ma non si capisce bene se un remake o una sorta di sequel o degli spin off stanno valutando ma io mi sparo lo stesso perchè vabbè ah che tristezza mamma mia mandrillo camping? no no e allora arriva il vero mandrillo prizio il mandrillone e il mandrillo di saving perchè sento che è da queste parti? no è sopra è sopra è sopra e devo andare via da wellington a curarmi vabbè 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 nell'uncle venga venga la curo io gheppardo joe biden joe biden joe biden stringe le mani ai fantasmi prego gheppardo joe biden cotto e mangiato dov'è un gen? qui? qui? tipo? qua 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 arrivo mi sa la paperella joe biden joe biden po' di asmer po' di asma il mandrillone il mandrillone il mandrillone il mandrillone è caduto a jojo dov'è jojo? non la vedo è l'altra parte del mondo il giappone sta è in silent hill 3 esatto qui possiamo dire wellington wellington let's go arriva eh? no? ma andriani è ceppata la sega è ceppata la sega infinita si vada main come chiude eh vado a fare il save no ma lui è piano di sopra forse ce la fa ma lui si è appena passato sotto caso caso prison esconditi questo è buono ehi questo è l'uovo ti piace questo pallet? ehm save a jojo mine no? vado io? sto andando ma lui è qui cazzo è qui merda ma dai ma perchè camperi? pezzo di merda ma che merda gipard vai genno? dai non camperare merda wellington pezzo di merda quell'altra però se si vai gipard mamma mia si incredibile 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 signori signori gipard sei uscito come top come incredibili incredibili osyman proprio osyman alla wellington mamma mia che gipard abbiamo fatto un save dall'altro impossibile all'ultimo secondo sto facendo l'ultimo gen mamma mia signori piano di sopra siamo a metà provare a raggiungerci ma gioio è morto no secondo me puoi anche posizionarti a un'uscita che chiudiamo chissà attento solo a dove arriva lui fallo magari venire all'uscita più vicina dove ti trovi appena chiudiamo appena se ne va comincia ad aprire e veniamo noi abbiamo chiuso gg lo prendo stiamo scendendo all'uscita più lontana da l'uncino ci siamo anche noi ha aperto l'altro via ragazzi wellington wellington e quando uno è scarso quando uno è scarso deve camperà è scarso mamma mia che partita gg che wellington questo il mandriano brin tv brin tv wellington four noobs again noobs only one un'uncino Grazie per la visione!